Il nostro rapporto con il cibo è atavicamente connesso alla sfera emotiva e psicologica. Quando ci rivolgiamo infatti a dei professionisti anche per ritrovare il nostro benessere fisico è importante e fondamentale portare avanti anche un discorso capace di analizzare quella che è la visione completa della persona. Di questo punteremo stamattina nel nostro dialogo ovviamente con la nostra esperta e ospite. Diamo il benvenuto quindi alla dottoressa Veronica Salvati, personal trainer, esperta in nutrizione e psicologia, oltre che influencer. Buongiorno e bentrovata. Ciao Diletta, buongiorno a tutti. Ecco Veronica, in questo periodo direi più che mai dobbiamo parlare dello stretto legame che c'è tra corpo e mente. Gli antichi questo lo sapevano veramente molto bene direi, ma oggi secondo te siamo capaci di osservare le persone come un vero e proprio insieme? Ebbè Diletta, questo è un bel dilemma e anche gli antichi ci insegnano menzana in corpore sano, che è di fondamentale importanza ancora in questi tempi. Diciamo che oggi siamo continuamente bombardati un po' da esempi sbagliati, da stress che ci sottopone appunto a pressioni all'interno della nostra vita. E mai come ora, soprattutto attraverso il mio lavoro, cerco di insegnare questa connessione tra mente e corpo. E come fai effettivamente poi ad aiutare i tuoi pazienti in questa strada così difficile? Beh, diciamo che la strada più vera è la strada intima e personale che ci porta ad un'introspezione, quindi a un guardarci dentro. Quindi partire da quelli che sono i nostri disagi, quelli che sono i nostri bisogni, le nostre sofferenze, far leva su quello per poi creare un progetto di miglioramento mentale, avendo le idee chiare, quindi poi fisico, rivolgendoci a noi professionisti del settore su un aspetto nutrizionale ed anche sportivo. Possiamo dire quindi che il compito che ti sei data è quella di suscitare delle riflessioni un po' più profonde, riflessioni che devono avere anche chiaramente la capacità di cambiare la prospettiva proprio della persona, sia dal punto di vista dei pazienti, ma anche dal punto di vista degli esperti. Da dove iniziare per proseguire poi questo percorso? Innanzitutto parliamo di un approccio multidisciplinare. Io mi avvalgo di un team di professionisti che insieme a me aiutano appunto il paziente nella riuscita, nel giusto percorso da intraprendere e quindi nella riuscita del suo obiettivo. È una coordinazione importantissima che appunto richiama vari aspetti, fra cui quello della consapevolezza, in primis, quindi io sono consapevole di quello che è il mio problema, il mio disagio, quello che io voglio migliorare in me, rivolgendomi ai professionisti appunto del settore riesco a trovare con loro la strada giusta, ma siamo noi a spingere il soggetto a pensare effettivamente attraverso una chiacchierata distensiva insieme a noi, anche con la figura di una psicologa, a qual è il reale movente, la reale motivazione che deve portare avanti, trainare un po' tutto il percorso. Quindi non solo ai chili da perdere, ma soprattutto un ragionamento che va ad affrontare il problema a tutto tondo. Tutto quindi parte da un'autentica consapevolezza. Quali sono le strategie da coltivare e come questo lavoro esteriore ed interiore poi giova effettivamente sui pazienti? La strategia innanzitutto è non pensare assolutamente che solo una dieta, un file, un pezzo di carta, solo un piano di allenamento possano risolvere il problema. Quello è l'inizio, è l'ingresso in un percorso. Poi sta a noi riuscire a mettere a nudo quelle che sono le problematiche del paziente, piccole, lievi o anche più importanti. Alle volte parliamo anche di disturbi alimentari, questa per una parentesi importante. Ma ci tengo a sottolineare che la cosa più semplice è partire dal proprio benessere, da quello che ci fa stare bene e quello che non ci fa stare bene. Cambiare le dinamiche, insomma, del nostro essere interiore. Parli di disturbi alimentari perché spesso è anche la mancanza di una forte autostima ed è frutto questo di modelli che vediamo continuamente intorno a noi e di scelte a volte sbagliate. Questo mix esplosivo può sfociare poi in disturbi alimentari? Io tratto anche il tema dei disturbi alimentari in studio, anche sui social, sia per esperienza personale, sia per numerosi pazienti avuti in studio, quindi ritengo di riuscire ad avere la giusta empatia e sensibilità per approcciarmi anche a casi di questo tipo. Oltre quindi la mia esperienza personale, la professionalità mia e dei miei collaboratori, ritengo che oggi la società abbia delle proposte di modelli un po' sbagliati che ostentano un po' troppo l'estetica senza puntare alla salute, al benessere, al vero wellness, al vero benessere. È la nostra prevenzione appunto per uno stato di salute migliore. In che modo capire effettivamente, Veronica, che c'è un campanello di allarme che ci costringe poi ad un'assoluta tensione? Riguardo sempre disturbi alimentari, sempre questa sfera, sicuramente le persone che hanno un'ossessiva osservazione a ciò che mangiano, anche ossessivo approccio allo sport, gli approcci devono essere graduali e sani, quindi sicuramente porre troppa attenzione, svolgere la vita prettamente per quello è sbagliato. È un insieme di cose nella vita che ci fa stare bene. Ciascuno di noi ha un passato condizionante, soprattutto in alcuni casi delicati, che negli anni sicuramente ti sei trovata ad affrontare con la tua professione. Proprio da ciò quanto è importante anche creare l'empatia col paziente? L'empatia è fondamentale. Io penso anche in altri lavori. Avere connessione con l'essere umano è un qualcosa di magico, ma allo stesso tempo di reale. Che è quello che poi muove la passione e l'empatia, muovono molto il mio lavoro. Anche in questo momento mi sento in empatia con te, ti ringrazio. Quindi c'è un'ottima connessione di vitale importanza, perché si ha un livello di comunicazione diverso. Quindi non c'è un distacco che non permette al paziente, nel mio caso, di aprirsi e raccontare. Poiché il racconto della propria vita passata e la vita presente sono degli elementi importantissimi per costruire un piano dietetico, un piano nutrizionale e un piano di allenamento. Alla luce di quanto detto, non possiamo e non dobbiamo, direi, dimenticare l'importanza anche di fare rete tra le diverse figure mediche. Sì, bisogna accettare anche dei limiti professionali, nulla di manchevole rispetto alla propria professione. Ognuno è specializzato in qualcosa ed è giusto che le nostre competenze, le nostre passioni siano messe al servizio del paziente, della persona che ci sceglie. Ed è proprio in connessione con quest'ultima riflessione che voglio parlare in conclusione della nostra chiacchierata di un nuovo progetto che ti vede in prima linea, accompagnare i pazienti con delle problematiche importanti anche oncologiche in un percorso di benessere insieme, quindi ovviamente anche verso il consulto di specialisti coinvolti in queste patologie, è giusto? Sì, questo è un tassello molto delicato per me poiché all'interno della mia famiglia purtroppo una persona è venuta a mancare a causa di un tumore ed io mi sono ritrovata in realtà incredibili ma purtroppo in senso negativo. Ho visto molta sofferenza e nel mio piccolo, nel mio lavoro, che cosa faccio nel pratico? Offro una consulenza sia psicologica sia nutrizionale e laddove si abbia la voglia, il bisogno e ce ne siano le possibilità anche sportiva, quindi anche allenamento, completamente gratuite per tutti i pazienti che hanno patologie oncologiche. proprio per riuscire ad essere vicina a queste persone che in realtà si trovano in una tempesta incredibile. Abbiamo fatto bene a sottolinearlo, a dirlo proprio qui perché chiaramente ci seguono tantissimi telespettatori e lanciamo anche un vero e proprio appello. Io ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia questa mattina, mattina live, quindi ringraziamo ancora una volta la dottoressa Veronica Salvati, di personal trainer esperta in nutrizione e psicologia. Grazie. Piccolo break.